Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti. La cronaca e la politica della tua città. Locatop da 25 anni risolve tutte le tue necessità di cantiere. La soluzione per un noleggio su misura. Consulenze sopra luoghi gratuiti, assistenza tecnica, consegna direttamente in cantiere. Oltre 1600 mezzi delle migliori marche per il sollevamento. Siamo in Emilia-Romagna e Lombardia con la nuova sede di Milano. Locatop. Un noleggio informato, sicuro e sereno. www.locatop.it Buongiorno a tutti e ben ritrovati dalla redazione di ETG. Il ministro e vice premier Matteo Salvini è intervenuto questa mattina ad un evento a Bologna sulle infrastrutture. Salvini con i cronisti ha parlato diversi temi. Ha parlato di Bologna, Città 30 e anche del candidato del centro-destra alla presidenza alle prossime regionali. C'era per noi Giuseppe Piloni. Torna a parlare di Città 30. Il vice premier ministro Matteo Salvini a Bologna per un evento sulle infrastrutture lo fa con toni concilianti, senza aprire lo scontro con il Comune. Per me prevale sempre il buonsenso. Quindi il nuovo codice della strada che abbiamo scritto e spero il Parlamento lo approvi rapidamente entro l'estate, lo abbiamo messo per salvare vite. E quindi occorre il buonsenso, le zone a 30 in prossimità di scuole, ospedali, case di riposo, strade strette ci stanno. Le zone a 30 su interi superfici cittadine non risolvono nessun problema. E quindi conto che tutti rispettino il diritto alla vita e il diritto al lavoro. Ma questo ovunque, a Bologna, a Milano, a Roma, a Napoli e ovunque. Noi stiamo investendo miliardi di Euro sul territorio emiliano e romagnolo. Strade, autostrade, anche quelle di cui si parla da troppo tempo e penso al Campogaliano-Sassuolo, su cui sto lavorando settimana dopo settimana con i privati. Ferrovie, dighe, la diga di Vetto, dopo decenni di attesa, finalmente i milioni per finanziare il progetto. E quindi stiamo facendo passi in avanti. Sono contento perché in un anno e mezzo non risolvi i problemi che magari aspettano una risposta da 40 anni. Però abbiamo dato in tutte le province emiliano e romagnole dei segnali concreti di presenza e di attenzione. Salvini parla anche delle prossime elezioni regionali e del candidato alla presidenza del centrodestra. Io conto che il centrodestra sia unito. Ci sono diverse personalità con cui stiamo ragionando, anche civiche, del mondo delle imprese, delle associazioni. Non è necessario avere una tessera di partito per condividere un'idea di Emilia-Romagna del futuro. E penso che a breve, dopo le elezioni europee, dovremo avanzare unitariamente una proposta che permetta agli emiliani e romagnoli di pensare a un futuro che va oltre la sinistra. Quindi che poi sia di partito o senza tessere partito, l'importante è che sia persona valida. Diverse idee le stiamo valutando. Fortunatamente ci sono più di una persona che hanno voglia di fare questo percorso. È stato inaugurato questa mattina a Bologna il morale in memoria di Vincent Plicchi, il tiktoker bolognese di 23 anni che si è tolto la vita lo scorso ottobre dopo essere rimasto vittima di cyberbullismo. L'opera si trova sulla parete esterna della palestra delle scuole Peppoli nel parco della Lunetta Gamberini. Alla cerimonia il padre di Vincent ha annunciato di aver presentato un esposto in procura perché venga individuato e punito chi ha istigato il figlio. al suicidio. Il punto con Federico Balletti. Il gattino rappresenta un po' Vincent. Essendo nel parco pieno di bambini, è il suo gattino, è l'occhio, il suo siamese. Abbiamo usato, questa è stata un'idea degli artisti, di cercare di stemperare la questione, quindi portando personaggi quasi disneyani e dargli questa veste più carina. Infatti si vede che c'è il lato buono, che c'è anche un bel cielo azzurro, che è la famiglia, gli amici, quelli con cui devi parlare se anche ricevi delle accuse per uscire dal problema e non isolarti come purtroppo è accaduto. È il papà a descrivere il murale in memoria di Vincent Plicchi, il tiktoker bolognese di 23 anni che si è tolto la vita lo scorso ottobre dopo essere rimasto vittima di cyberbullismo. Murale realizzato sulle pareti dell'Istituto Comprensivo 21 di Bologna, la scuola nel cuore del parco della lunetta Gamberini e inaugurato oggi. Un'opera che vuole fare riflettere soprattutto i giovani sull'utilizzo dei social e soprattutto sul cyberbullismo, quello che ha ucciso Vincent. Il ragazzo era diventato una star social, vestendosi come un personaggio di un videogame. Su TikTok aveva conosciuto una ragazza, avevano cominciato a scambiarsi messaggi. Lei gli aveva detto di essere maggiorenne, ma in realtà di anni ne aveva 17. Da lì erano cominciate false accusi di pedofilia con minacce e persecuzioni vere e proprie. Per questo il padre Matteo, che vuole giustizia per il figlio, proprio oggi ha presentato un esposto in procura per i reati di stigazioni al suicidio, stalking e diffamazione. Confermo la nostra idea, anche del nostro legale, avvocato Benfenati, che l'istigazione al suicidio sia il reato per cui i responsabili devono essere perseguiti. Da oggi, diciamo da domani mattina, potranno fare tutte le verifiche del caso. Noi penso che abbiamo già raccolto molte informazioni, è chiaro che noi arriviamo fino a un certo punto, perché io non posso dare un cognome a uno user ID o un... Cosa chiedete esattamente in questo esposto? Chiediamo che i responsabili siano, ribadisco, ci sia un'imputazione di stigazione al suicidio, stalking, diffamazione, tutto quello per cui queste persone sono prodigate e che si dia un segnale forte alla comunità, che se uno fa del male alle persone, anche online, succede qualcosa. Altrimenti tutti si sentono autorizzati ad andare avanti così. Cosa si può trasmettere anche con questi murali, con queste opere alle giovani generazioni? Ah, si può scegliere, si può insegnare come usare correttamente il cellulare, barra i social. Infatti il Morales, da un lato, racconta un utilizzo sano, adesso invece trasmette l'utilizzo quello che crea angoscia, quindi con l'odio degli haters dietro. E al centro c'è la scelta, quindi stare con... non finire preda, dei leoni da tastiera e sono rappresentati con le pecore, gli haters, perché tante volte la gente regala odio senza neanche sapere cosa sta facendo, senza approfondire il proprio giudizio, eccetera, e invece c'è il lato buono che è quello della famiglia. A lui sarebbe piaciuto molto questo murale? Ah, da matti. Piace molto. Il murale sulla parete esterna della palestra delle scuole Pepoli ha visto il coinvolgimento del comune, del quartiere Santo Stefano e dei ragazzi della scuola, oltre che naturalmente degli artisti che li hanno realizzato. Alessandro Ferri, alias Dado, Massimiliano Landuzzi, Rasti, Riccardo Raviola, alias Dro, Elvis Pregnolato, conosciuto come Mambo. Un 55enne di Bologna, Massimo Madrigali, di professione, attore teatrale, morto nel Bellunese precipitando con il suo parapendio sul monte Avena. Il velivolo era decollato da Malga a Campet quando, dopo un breve sorvolo, ha perso quota e si è schiantato sulle rocce sottostanti. La dinamica dell'incidente non è ancora stata accertata. Il pilota è stato raggiunto dall'elicottero del soccorso alpino Suem di Pieve di Cadore che ha sbarcato sul luogo dello schianto un'equipe medica e un tecnico di elissoccorso. L'uomo appariva in gravi condizioni, in stato d'incoscienza, ma la situazione è precipitata velocemente. Nonostante le manovre di rianimazione, il 55enne, deceduto poco dopo, Madrigali era un noto attore teatrale, oltre che appassionato di sport. Redditi illeciti e non dichiarati per complessivi 30 milioni di euro. E' quanto hanno scoperto gli uomini della Guardia di Finanza di Bologna che ha anche segnalato sette persone per vari reati. Vediamo. La Guardia di Finanza di Bologna ha ricondotto a tassazione redditi non dichiarati per circa 30 milioni di euro. Si tratta di denaro che sarebbe stato illecitamente accumulato mediante la commissione di reati di varia natura riscontrati nell'ambito di indagini condotte anche da altre forze di polizia operati sul territorio bolognese. Sono sette le persone segnalate a vario titolo per reati dai quali avevano tratto un ingente profitto economico, riporta la Guardia di Finanza, come circonvenzione di incapace o peculato perpetrati da amministratori di sostegno e tutori legali di persone in particolare stato di bisogno, autoriciclaggio finalizzato a ripulire capitali illeciti attraverso l'investimento in strumenti finanziari, false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato a motivo dei quali sono stati anche truffati ignari investitori per importi milionari. In alcuni casi il profitto illecito ricostruito dagli investigatori è risultato così elevato che gli interessati sono stati denunciati anche per la commissione di reati fiscali, si aggiunge. Le indagini, concluse dal nucleo di polizia economico-finanziaria, sono conseguenti a un'azione sinergica con la procura di Bologna. Continuano i rilievi e le ispezioni sulla torre Garisenda, ormai circondata dall'anello di protezione in attesa degli interventi che dovrebbero metterla in sicurezza nei prossimi anni. Questa mattina la torre è stata osservata da vicino da un drone che ha scattato fotografie ravvicinate a diverse altezze alle pareti dell'antica torre del 1100 per valutarne le condizioni e valutarne la situazione proprio per poter intervenire. La scorsa notte invece sono stati usati sulla torre laser, scanner e termografie per avere ulteriori dati su cui basarsi. Si è dovuto lavorare di notte perché l'irraggiamento solare avrebbe compromesso la misurazione termografica. Ad occuparsi dei rilievi è stato un apposito dipartimento dell'Università di Bologna. Domani in Emilia-Romagna sono previsti temporali anche di forte intensità con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale. Lo annunciano ARPA e Protezione Civile regionale emettendo un'allerta gialla per criticità idraulica praticamente in tutta la regione, fatta eccezione per la pianura centro-orientale della regione dove l'allerta è arancione per la propagazione della Pina del Po. Si prevedono inoltre possibili superamenti di soglia 1 nei corsi d'acqua nelle zone collinarie di pianura in tutta la regione. Sul settore collinare, montano, centro-occidentale sono possibili localizzati fenomeni di ruscellamento, frane su versanti particolarmente fragili e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua minori. Dalla tarda mattinata inoltre sono previsti venti sud-occidentali lungo tutte le aree montane della regione. Andiamo alla sanità perché è già operativa al Sant'Orsola la nuova PET da 21 milioni di euro, un'unica in Europa, apre nuovi orizzonti per la ricerca oncologica perché è in grado di rilevare anche le più piccole cellule tumorali con un'unica scansione corporea. Per la prima volta in Europa i ricercatori possono seguire la distribuzione di una molecola in tutto il corpo umano attraverso un'unica scansione, merito della nuova PET-CT Total Body inaugurata presso la medicina nucleare dell'IRCS Policlinico di Sant'Orsola, un investimento da 21 milioni di euro sostenuto grazie a fondi di ricerca aziendali e regionali che oltre ad accorciare drasticamente i tempi di esecuzione di un esame da 12 minuti a meno di un minuto e aumentare la capacità di individuare le micrometastasi tumorali apre importanti prospettive di ricerca per lo sviluppo di nuovi farmaci sia per la diagnosi che per il trattamento dei tumori come mielomi e linfomi e non solo oltre ai processi infiammatori e malattie autoimmuni. Questa apparecchiatura è la macchina più sensibile, più precisa disponibile in questo momento. Consente di usare un radiofarmaco in minor quantità quindi esporre i pazienti a minor rischio da radiazioni e le informazioni sono molto più precise con una risoluzione spaziale molto più elevata. L'importanza della PET Total Body per la ricerca è che ci consente di fare studi che le macchine convenzionali non fanno quindi di studiare dinamicamente ad esempio come si distribuisce il radiofarmaco avere informazioni importanti soprattutto in ambito oncologico ad esempio valutare la risposta ai trattamenti oncologici che sono sempre più personalizzati ma anche sempre più impattanti dal punto di vista economico per cui si può vedere precocemente se c'è risposta al trattamento o meno. Questa tecnologia innovativa è stata sviluppata in California e al momento i sistemi di questo tipo installati in tutto il mondo sono solamente una decina. È un'innovazione che apre orizzonti secondo me soprattutto con tutta la gestione del farmaco e lo studio, la ricerca sul farmaco che ancora oggi non sappiamo le reali potenzialità. Va nella direzione che ho tanto auspicato in questi due anni ovvero quella di lavorare per degli assetti della medicina e del nostro assetto sanitario bolognese in maniera integrata. Lo sport con il calcio, questa sera l'ultima dall'Ara per il Bologna che alle 20.45 sfida Juventus per il terzo posto grande festa in programma allo stadio tra gioia per il presente e ansia sul futuro di Motta seguiremo naturalmente in diretta la gara con solo calcio a partire dalle 20. Luca Pinkerle Godere, godere, godere uno dei pochi piccoli errori di Tiago Motta al Bologna è stato su un accento già rettificato da tempo ma che ha trasformato quella parola sconosciuta ormai ai tifosi in uno slogan che è risuonato dolcissimo per tutta la stagione. Stasera sarà tempo di godere, far festa comunque vada Il Dall'Ara sarà apparecchiato per celebrare una stagione da favola con giochi di luci e canzoni senza invadere il campo, mi raccomando di quella che ha la prospettiva per essere anche la miglior stagione di sempre in fatto di punti ma che rischia con grande dispiacere di passare in secondo piano per un intreccio del destino sì perché Tiago Motta siederà forse per l'ultima volta sulla panchina del Dall'Ara dove è diventato grande e dove ora questiona il proprio futuro lasciando la città col fiato sospeso a pochi passi ci sarà quella della Juve che potrebbe essere la sua prossima panchina stasera sarà occupata da Paolo Montero promosso dalla primavera bianconera per fare da Caronte dopo l'esonero di Allegri che strano il calcio a volte una settimana fa la città si infiammava e gridava fortissimo l'ino della Champions oggi va alla ricerca di un impressionante terzo posto ma con la consapevolezza che quel genietto che ha creato questo squadrone potrebbe salutare dopo l'incontro consaputo che gioia effimere che può dare il calcio ma è bello così ci sarà tempo per far festa anche mercoledì con il Champions Tour ma stasera la voglia di stappare lo champagne sarà al gusto di tre punti senza Zirkze infortunato e con Odgar e insieme a Salmacherso e Orsolini il Bologna si metterà il suo vestito più elegante con un fazzoletto nel taschino per asciugare le lacrime di gioia per il Bologna più bello e di tristezza per un'incognita d'addio è partito questa mattina da Bologna con una tappa di trasferimento il Motogiro 2024 la rievocazione storica più antica e prestigiosa gara motociclistica italiana a tappe nato nel 1914 il Motogiro tocca i suoi vertici grazie alla federazione motociclistica italiana tra il 1953 e il 1957 quando diventa una vera e propria leggenda per gli appassionati delle due ruote l'avventura finisce nel 1957 anno dell'abolizione di tutte le gare su strada dopo il terribile incidente alla Mille Miglia oggi la rievocazione con moto d'epoca è partita da un hotel nei pressi dell'aeroporto di Bologna ma non è passato per la città delle due torri si è diretto invece a Ferrara da dove ha preso il via ufficialmente la prima tappa con il Motogiro si chiude questa prima edizione del nostro telegiornale un buon pomeriggio a tutti, grazie eTV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda